La croce che Biagio Conte, missionario laico italiano, portò in pellegrinaggio lungo il corso della sua vita, percorrerà le strade di Acireale in occasione della Via Crucis, promossa dal vicariato, che si terrà venerdì 23 febbraio alle ore 19.15 con appuntamento presso la Chiesa della Madonna dell'Indirizzo. Il cammino inizierà alle 19.30 e percorrerà per l'occasione le strade di Piazza Indirizzo e Corso Umberto, proseguendo verso la Basilica Cattedrale Maria Santissima Annunziata, dove si concluderà il breve percorso. Voglio portare un messaggio di speranza, con l'unico simbolo in grado di raggiungere tutti, dal centro alle periferie del mondo. Questo è ciò che diceva Biagio Conte, mentre con la sua croce testimoniava il Vangelo nel mondo. Il messaggio talmente potente di questa sua croce ha continuato a viaggiare anche dopo la sua morte, con Don Pino Vitrano, sacerdote palermitano, succedutogli di fatto, e con il quale ha fondato la missione. Sarà lui il testimone di questa Via Crucis, un'occasione per riflettere sul senso di comunità e sulla necessità della pace come punto focale nella vita di ogni società civile, una croce, come dichiara Salvatore Coco, parroco della comunità di Aciplatani, che si carica oggi del peso dei dolori di tante persone, vittime di guerre e violenze.